Ciao amici di Butac e benvenuti nella realtà. Oggi parliamo di palazzi fascisti e Laura Boldrini. La notizia è una non notizia. Alcune testate giornalistiche, specie sul web, hanno riportato un piccolo spezzone di un video con Laura Boldrini. Ci mostravano un video dove si vedeva Laura Boldrini parlare dei monumenti fascisti, o comunque dei palazzi in stile fascista. Laura Boldrini si esprime molto chiaramente, spiega che ci sono soggetti, tra cui dei partigiani che aveva incontrato pochi giorni prima, che si lamentano del fatto che passare di fronte a palazzi dell'architettura fascista ancora in piedi, a loro dia fastidio. Vivono male l'esperienza di essere ancora di fronte a simboli di quello che è stato il ventennio fascista. La Boldrini non ha espresso in tutto ciò un attacco a questi palazzi, non ha parlato di che bisognerebbe eliminarli. No, non ha detto nulla di tutto ciò. Ha soltanto raccontato un aneddoto. Un aneddoto inquadrato all'interno di un'intervista. Oltretutto quasi tutti quelli che hanno riportato l'intervista tagliano attentamente la parte della domanda della giornalista, per cui non si sa esattamente come si sia arrivati a parlare di questo. Ma non è un endorsement a distruggere tutti i palazzi fascisti che ci sono sul territorio italiano. No, tutt'altro. È soltanto una frase estrapolata dal suo contesto che alcuni però stanno cavalcando con quel senso. Molte testate, di quelle ovviamente della parte avversa a Laura Boldrini, stanno titolando come se lei volesse radere a suolo tutti i palazzi di architettura fascista sul territorio italiano. Ma è una sciocchezza. Chi la cavalca lo sta facendo solo e soltanto per manipolare la percezione di quello che avete attorno. Manipolarla per voi che ci state seguendo qua, per voi che leggete i giornali, per voi che leggete i blog, che vi convincerete ma questa è una pazza, sono palazzi che sono lì da 70 anni, nessuno si è lamentato più di tanto perché dovremmo radere al suolo. Oltretutto in certi casi sono palazzi di utilità pubblica. A Bologna c'è un bellissimo liceo scientifico che è stato costruito durante il fascismo. È una struttura diversa dal resto dei palazzi nella zona ma è una struttura che andrebbe ristrutturata, su questo non bisogna dirlo, ma esteticamente secondo me ha un suo stile preciso. Se non hai vissuto il periodo fascista, se non sei un figlio di qualcuno che ha subito angherie in quel periodo, lo vedi solo e soltanto distonico magari rispetto ai palazzi del Settecento che gli sono a fianco, ma di per sé è una struttura funzionale. Laura Boldrini non ha chiesto di abbatterli, non ha espresso un parere negativo sostenendo che vadano abbattuti, nulla del genere. Ragazzi, la politica era una cosa per persone serie, non per persone che hanno voglia di fare questi giochetti. E invece purtroppo negli ultimi vent'anni, vent'anni in Italia, si va solo avanti a questo tipo di rabbia, arrabbiature, litigate, bufale, solo per portare acqua al proprio mulino. È ridicolo. Come sempre, un commento. Stavolta viene da Paraschevazo, avrò pronunciato bene chissà. Si parla di vaccini. E Paraschevazo commentava l'articolo, il video che ho pubblicato qualche giorno fa, dove raccontavamo le domande più frequenti che ci vengono fatte proprio sulle vaccinazioni pediatriche. Il guaio è fatto, la gran cassa antivaccinista è partita con gran rumore e tanta gente in buona fede ci casca. Purtroppo la scelta dell'obbligo si è rivelata controproducente. Forse sarebbe stato meglio puntare su una seria campagna di informazione scientifica, utilizzando tutti i canali che invece sono sfruttati per riempirci di sciocchezze. Grazie per questo contributo, ma basterà? Paraschevazo. Io ti ho risposto anche scritto, nei commenti scritti, dicendoti quello che penso. Il criterio è purtroppo non siamo in emergenza, ma il rischio di entrare in un'emergenza malattie prevenibili c'è. L'unico sistema per evitarla in fretta è introdurre l'obbligo. In un modo o nell'altro. Lo si è introdotto in una maniera un po' diversa rispetto a come si era detto all'inizio. Non sono più 12 malattie combattute, ma solo 10. Non sono più tutti, non lo sono mai stati, non sono 10 vaccini tutti in una volta. Bene o male, sono vaccini noti e testati, per cui nulla di cui avere paura. Se tra 4, 5, 6 anni saremo riusciti a riportare le coperture vaccinali sopra determinate percentuali, è facile che un prossimo governo elimini questo obbligo, ma l'importante in questo momento è cercare di porre un rimedio a una situazione grave che si è creata e che potrebbe solo peggiorare nei prossimi anni. In realtà alla comunicazione ci sono associazioni, diciamo federazioni, che la stanno facendo. La Federazione Nazionale dei Medici, l'Ordine Nazionale dei Medici, sta cercando di creare un sito proprio per la comunicazione, non solo sui vaccini, ma in generale sulla pseudomedicina e le pseudoscienze, un sito a cui noi stiamo cercando di collaborare per quanto è possibile e che vorrà fare informazione. Purtroppo i giornali, le testate televisive non amano fare vera informazione. Loro hanno bisogno di click, di visualizzazioni, di audience e l'audience in un paese come il nostro, purtroppo, la si tira su solo e soltanto mettendo di fronte, sì, magari un medico scienziato importante. Poi dall'altra parte abbiamo subret, ballerine, farmacisti, gente che in realtà non ha le competenze per parlare dell'argomento ma passa le giornate nei salotti televisivi a disquisire della cosa. Costringere le reti televisive a cambiare registro non è facile. Ci stiamo provando però. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, se volete iscrivetevi al canale, campanellina per le notifiche e lasciateci un commento che magari la prossima volta è il vostro. Ciao! 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 Grazie a tutti.